La cosa che dobbiamo temere di più è la persistenza di un problema dentro di noi. Un sogno che non si realizza, una cosa che vorremmo non avviene, un rapporto che vorremmo che finisse, un altro che vorremmo cominciasse. E pronunciamo quella frase terribile, sarò felice quando avrò risolto il problema. No, sarai felice quando avrai eliminato dalla mente l'idea di risolvere il problema. Perché quel problema è un'illusione, e un'illusione ancora più grande è quello di credere che starai bene solo quando sarai saldato.